L'avvocato Nicola Lucchi è il primo candidato alla carica di sindaco della città di Sassari. Si presenta alla guida della lista civica Noi per Sassari. La presentazione è avvenuta questo pomeriggio al Teatro Astra alla presenza di un gran numero di cittadini ed esponenti politici locali. Fulcro dell'incontro la grande lista dei progetti da portare avanti che spaziano dalle grandi opere pubbliche ai progetti culturali. Dal punto di vista della cultura lo ritengo il punto forse apicale, un grande progetto che deve inesorabilmente valorizzare il patrimonio materiale e immateriale della cultura che abbiamo a Sassari, che è la nostra grande tradizione, la grande forza che Sassari ha di saper non solo conservare e riaffermare l'identità per lanciarsi soprattutto nel futuro. A sostenere la lista civica anche il partito di Antonello Peru, Sardegna al centro. Oggi in continuità Sardegna al centro decide di continuare con l'amministrazione uscente, anche perché parte integrante. Noi all'interno di Sardegna al centro abbiamo due consigli comunali e un assessore e quindi questa decisione è stata presa innanzitutto dai coordinamenti dalle strutture territoriali e non solo dal sottoscritto. Noi diamo voce principalmente ai territori, diamo voce al protagonismo dei territori e quindi Sardegna al centro continuerà con questa amministrazione nella prossima consigliatura, speriamo con Nicolás Sindaco.